Con oggi, stop. È stato l'ultimo giorno di shooting a Londra. Abbiamo fatto foto ovunque e io ho sognato tutto il giorno questo momento. Il make-up è stato favoloso, ma dopo 12 ore la mia pelle dice basta. Dopo la colazione, questo è ufficialmente il mio momento preferito della giornata. Senti proprio che fai respirare la pelle e gli doi un po' di ossigeno quando scioglio tutto. Durante queste giornate in cui i make-up devono resistere tutto il giorno e devono essere adatti ad uno shooting, quelli belli pesanti, questi prodotti mi salvano la vita. Sono gli unici che riescono a tornarlo veramente. Bastano pochi secondi per rimuovere tutto. Grazie a Iepoda ho scoperto che prima della crema mi conviene utilizzare il siero. Questa in particolare è esfoliante e rigenerante. A seconda del momento della giornata utilizzo la crema, o per la notte o per il giorno. Questa per la notte in particolare perché è la mia preferita, la potete avere in omaggio utilizzando il mio codice, che è Fede London, che in più mi dà anche il 35% di sconto su...